Si è tenuto al centro congressuale dell'hotel Hermitage a Porto Ferraio un evento dedicato al turismo organizzato da Federalberghi Conf Commercio Elba. Durante l'assemblea si sono dibattuti i temi più importanti dell'appena conclusa stagione turistica, dall'analisi dei dati alle strategie di promozione per il prossimo anno. Molti nomi importanti presenti all'incontro, uno fra tutti quello del ministro del turismo Daniela Santanchè. Intanto bisogna riportare all'Elba quella che era l'isola d'Elba, una realtà, un'eccellenza e quindi bisogna lavorare in quella direzione. Io credo che qua bisogna fare una riflessione forte sull'aeroporto perché raggiungere l'isola oggi è comunque complicato. Io credo che l'aeroporto potrebbe essere un'ottima soluzione per portare anche un turismo di qualità, un turismo altospendente, un turismo che oggi avendo delle difficoltà magari preferisce altre destinazioni. elevare quelle che sono i servizi e quindi avere strutture ricettive che abbiano sempre dei servizi più di qualità, occuparsi di quello che è il decoro urbano, occuparsi di quello che è la mobilità, quello che è il traffico, la sicurezza perché oggi i turisti vogliono andare in luoghi che siano assolutamente sicuri. Io credo che ci sia un grande lavoro da fare. Se si fa una squadra Italia insieme alle istituzioni locali, sindaci, al Presidente della Regione e al Governo, noi siamo la nazione più bella del mondo e l'isola d'Elba è assolutamente una componente importante della nazione più bella del mondo. Fra gli argomenti discussi anche quello dei trasporti con un focus sull'aeroporto, treni, il rinnovo del bando di continuità territoriale marittima ed aerea. Altro punto importante, quello della proposta di modifica della tassa di sbarco o della gestione associata del turismo. Uno dei problemi che più si riscontra comunque non soltanto all'isola d'Elba è quello delle risorse. Qui all'Elba si discute sul contributo di sbarco e sulla tassa di soggiorno. Stiamo facendo anche qua una riflessione per vedere come cambiare la tassa di soggiorno in una tassa di scopo, metterla a proporzionare rispetto al prezzo delle camere e quindi lasciare più risorse sul territorio. Perché se l'isola d'Elba, non vorrei sbagliarmi, ha circa 33-34 mila abitanti e d'estate arrivano 200 mila persone, lei capisce che la polizia locale non è adeguata, i vigili urbani non sono adeguati, il fatto della raccolta dei rifiuti non è adeguata. Quindi se vogliamo essere quella nazione di qualità e non di quantità, dobbiamo avere più risorse a disposizione. Il presidente dell'Associazione Albergatori Elbani, Massimo De Ferrari, ha tirato le somme al termine del form, che è stato moderato dal direttore del Tireno, Marcacci. La presenza del ministro è stata importante perché ha consentito di affrontare i temi in maniera molto più costrettiva e anche con delle certezze. La prima certezza è che purtroppo non ci saranno dei finanziamenti da parte del governo centrale ai comuni periferici e quindi l'unica risorsa che avranno i comuni deriverà dalla tassa di sbarco o tassa di soggiorno. Per cui abbiamo aperto un dibattito proprio su questa entità, come costruirla, perché evidentemente la tassa di sbarco che deve essere aumentata la pagano tutti, la tassa di soggiorno può dare ai comuni dei benefici economici. È stata una proposta da parte di un sindaco di fare una soluzione ibrida, per cui su questa penso ci sarà del materiale per lavorare. La seconda grande cosa che è stata debattuta è stata la necessità dell'aeroporto, questa la dottor tutti perché senza di quello lo sviluppo turistico non c'è. Il presidente Gianni ha detto che i soldi ci sono e quindi i sindaci si devono solo esprimere ufficialmente in maniera chiara dicendo l'aeroporto lo vogliamo, le situazioni cattivari lo fanno e il presidente Gianni vuole essere confortato anche da una voce dell'Elba, gli faremo una raccolta di firme per dire che questa è una cosa scontata penso. Qualche d'uno ha detto che non era neanche necessario, che lui aveva già tutte le carte in regola per fare, addirittura mi sembra di aver capito che l'Andi ha detto che addirittura il piano urbanistico di Vare di Campo già lo prevede, per cui diciamo di fatto lui aveva già potuto farlo. Comunque giustamente se deve essere confortato lo conforteremo. E la terza cosa sono i soldi che per ristrutturare l'azienda, qualche azienda per affacciarsi sul mercato in maniera competitiva per il prossimo futuro deve essere ristrutturata. Noi vedo che i soldi per adesso alle aziende non ne sono arrivate e la ministra ha detto che invece là ci sono i soldi e anche abbondanti, abbiamo avuto anche una discussione su questa parte qui, però quella cosa che più conta è che credo che abbiamo istituito un filo diretto con il Ministero del Turismo, che prima non ci avevamo. Quindi io confido sulla determinazione del ministro di far vedere che l'Elba, che lei ritiene che sia un po' offuscata dal punto di vista d'immagine, io invece gli ho ripetuto che a tutt'altro l'Elba invece è tra le destinazioni più richieste, perché i dati l'hanno dimostrato. Grazie ai soldi che sono là dentro, contiamo di che anche la ministra si convinca che saremo la prima destinazione del futuro.